Siamo giunti alla finale di questo trofeo Unique. Panther Pride, Girardi, Santiago, Iaccarine, Ramade, Esposito, Titanium, Pepe, Rom Guasimo, Gnoffo, Sonic One, Giovanni Di Simoni, Unioni, Orland De Chiari, Cirillo. Rom Guasimo, ora uno dei più gettonati, rinuncia Orland, il 5 al 6 un po' arretrati, va via la macchina in velocità, ci saranno scintille, allacciate le cinture, un po' di turbolenze. Si parte, via, o si lotta per il comando all'attacco della piegata, con Titanium e Ramade alle prese, poi Santiago, va lì al completamento del lancio che se ne va in 13 spaccato, sta passando gradatamente il sauro Titanium e al completamento della piegata e al comando. Quarto iniziale, violentissimo, 28 scarsi, lunga fila indiana molto sfilacciata per il notevole quarto iniziale. E ora il buon Pepe può prendere un po' di respiro con il suo allievo e completa i 600 in 42 e 4 da 1, 10 e 7. Prendono la via degli Argo i ritardatari, Titanium al comando. Viene via Rom Guasimo, si va al completamento del Mezzomiglio in 57 e 9 e Rom va a far pariglia con Ramada al comando, il numero 4, Titanium Tor. Si completa il chilometro nell'ordine dell'1-12-7 e l'Ovo-Iu di Pepe in vantaggio, Rom al suo Salchi, i due Sauri in pole position. La via del completamento della letta di fronte affrontano l'ultima curva, 14 e 4 fanno 1-27 e 1-3 quarti di miglio. Titanium sostenuto riparte, Rom Guasimo deve essere un po' guidato. Questa d'arrivo, Titanium leader, Ramada sbuca, ma Titanium ha ancora un po' di energia, va in carburation rom. Il palo si sta avvicinando, Titanium in vantaggio, i cavalli sono in zona traguardo, sale e pepe, sale e pepe, pepe e sale, Titanium Tor. Pennellato da sale e pepe, con molto sale e un po' di pepe, con molto pepe e un po' di sale. Go, 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 baby go per il giovane Pepe che pennella. Si deve accontentare il maestro Gnoffo, ha trovato un cavallo e un driver all'altezza di situation. Bene anche espocito con Ramada, 1-56-4, 1-12-8, 4 euro in chiusura. Grazie agli amici che ci hanno fatto compagnia dallo studio centrale, da qui con i suoi consigli sempre speciali, Emilio. Buonasera a tutti, domani galoppo, noi sabato, stessa spiaggia, stesso mare, trotto. Grazie. Grazie a tutti.